Buongiorno, grazie, sono Alessandro Torretta, in questo momento mi sto occupando dell'azienda di famiglia che è da tre generazioni che esiste, Attimarmo Service, un'azienda che si occupa principalmente di restauro di marmi antichi, noi lavoriamo quasi principalmente al cimitero monumentale di Milano, occupandoci appunto di restauro su marmo e da qualche anno mi sono affacciato un po' al campo delle nanotecnologie per cercare di implementare i prodotti che già utilizzavamo e trovare nuove soluzioni proprio nel campo, una volta effettuato il restauro, della conservazione al meglio di questo restauro. Quindi ho incontrato nel mio cammino varie persone, tra cui il professor Bignozzi e altri esperti di fama internazionale di nanomateriali e di questi tipi di materiali decontaminanti, ho avuto esperienze anche con dei prodotti giapponesi conosciuti tramite altri ricercatori che sono attualmente in Italia e ho incominciato ad applicare questi materiali inizialmente con una tecnologia che derivava fondamentalmente dal restauro, quindi l'applicazione di patine diciamo che si utilizzano abitualmente nel restauro come coating, invece che utilizzare quel tipo di patine abbiamo utilizzato in nanomateriali. Tra i nanomateriali più utilizzati appunto c'è il biossido di titanio per la sua spiccata azione fotocatalitica che vuol dire appunto che con l'aiuto della luce del sole e con l'acqua riesce appunto a distruggere lo smog, io lo chiamo lo smog, lo sporco, gli inquinanti, trasformandoli appunto in sali minerali totalmente innocui. Un'altra delle capacità che hanno i nanomateriali, soprattutto la silice nanometrica, ma anche il titanio sotto irradiazione è la superidrofilia che appunto serve per migliorare un concetto di safe cleaning, ovvero tutte volte che arriva l'acqua e c'è questa capacità diciamo della superficie di essere nanostrutturata, l'acqua stessa crea un'azione ventosa rispetto allo sporco e quindi facilita molto il dilavamento dello sporco. Abbiamo incominciato a trattare superfici diverse dai marmi, ci siamo un po' specializzati anche sul discorso dei vetri, dove ci siamo resi conto di una cosa molto importante, cioè che se i vetri sono stati appena apposati, quindi i vetri sono nuovi, è molto facile la deposizione. Diciamo che deporre nanomateriali su materiali nuovi non è difficilissimo. La cosa diventa un po' più complicata quando i supporti sono vecchi o comunque sono in opera ormai da qualche anno, perché le superfici dove noi dobbiamo mettere i materiali nanostrutturati devono essere perfettamente pulite. A questo punto abbiamo, sempre insieme al mondo accademico, sviluppato anche dei detergenti che ci consentono sostanzialmente di modificare le superfici e renderle adatte per accettare poi i trattamenti nanostrutturati. In questo caso stiamo parlando di un lifeguard, che è un prodotto che è commercializzato da noi direttamente, importato dal Giappone, che ha una durata su vetro di cinque anni. Questa è la famosa casa Tosi che ha presentato anche il professor Bignozzi, dove sono stati appunto depositati questi prodotti giapponesi, dove noi appunto abbiamo fatto sia l'esecuzione dei lavori, sia monitoriamo costantemente ogni sei mesi per la sovrintendenza delle belle arti di Milano lo stato di fatto. Quindi andiamo appunto a capire se i prodotti, se le superfici si sporcano, dove si sporcano e perché si sporcano. In realtà appunto come ci siamo resi conto, dopo cinque anni non abbiamo avuto sostanzialmente segni di sporcamento, quindi possiamo dire che i prodotti finora funzionano bene. Un'altra cosa che è stata calcolata con l'Università di Torino, con il NIS, praticamente sono state le quantità di inquinanti che vengono decontaminati. Abbiamo calcolato, per degli studi fatti poi a laboratorio, che un chilometro quadrato di superficie trattata riesce a decontaminare NOx e SOx per 15 tonnellate annue, che sono tantissime dal mio punto di vista. Rivestimenti antibatterici ioni argento, abbiamo cominciato a usarli soprattutto per il campo alimentare, questo è lo stabilimento del Granapadano, dove abbiamo cominciato a utilizzare un nuovo sistema di applicazione. ci siamo resi conto che l'applicazione per spray coating poteva essere ulteriormente migliorata intervenendo proprio sulle pistole, gli ugelli e i sistemi con cui veniva applicato questo materiale. Siamo arrivati ora ad avere deposizioni spray totalmente invisibili all'occhio umano, perché proprio le quantità di prodotto che ci sono sono veramente minime. E poi i prodotti sono molto trasparenti, quindi fisicamente uno a occhio nudo non si riesce a rendere conto dove il prodotto c'è e dove il prodotto non c'è. Un'altra cosa di cui volevo così darvi giusto un intro è sul risparmio energetico, dunque sfruttando a questo punto le nano cavità, cioè noi quando parliamo di nanotecnologia parliamo di nanomolecole e quindi anche di nano cavità. La coibentazione termica e la coibentazione acustica in quest'ultimo periodo è un tema molto presente e soprattutto molto richiesto dalle aziende. L'Ariogel è questa sostanza creata sostanzialmente dal 95% di aria che ha un'ottima capacità termica, quella che viene utilizzata come scudo sui veicoli spaziali in fase di rientro e in fase di uscita dalla Terra, proprio per queste sue capacità e viene utilizzata anche all'interno delle stute degli astronauti per poter appunto proteggerli dalle temperature assurde che ci sono nello spazio. Con questa tecnologia e facendo anche dei ragionamenti sulle nano cavità in questo momento riusciamo a produrre queste pitture e questi intonaci dove oltre ad essere ecologici per il fatto che contengono gli agenti ionizzanti e contengono il titanio, sono anche termici perché sfruttano queste capacità nanometriche di aiuto al fattore termico e al fattore acustico. Alcune sperimentazioni, questa per esempio è una casa in Svizzera costruita totalmente con un sistema di bioarchitettura ci siamo sbizzarriti, qui abbiamo applicato il massimo della tecnologia a nostra disposizione, il lavoro è uscito molto bene abbiamo avuto anche complimenti a livello internazionale e dei test fatti finora praticamente in Svizzera in questo momento è la casa di bioarchitettura di classe A++ miglior costruita fino ad oggi probabilmente anche proprio per l'utilizzo di questi ritrovati nuovi nanotecnologici. dunque qua stiamo parlando di geopolimeri dunque i geopolimeri, poi concludo, sono un po' quello che noi vorremmo fare cioè in questo momento ci stiamo adoperando per cercare di avere dei finanziamenti a livello europeo di ricerca e di sviluppo il nostro vorrebbe essere un interessante aiuto alla bioedilizia costruendo quello che noi vorremmo chiamare l'itocem cioè un cemento costruito non con un cemento ma con una pietra questo cemento dovrà avere sostanzialmente al suo interno dei sali minerali dovrà essere totalmente biocompatibile e diciamo come qualità principale dovrà riuscire a essere accoppiato appunto a dei materiali che possono essere fibre vegetali mineralizzando appunto queste fibre vegetali e quindi trasformandole per l'eternità in minerali stessi questo consentirà di avere sicuramente un ottimo coefficiente fono e coibentazione fono assorbente con questa tecnologia si potrebbero sviluppare contestualmente anche prodotti antifuoco o comunque migliorare di parecchio le qualità, diciamo le resistenze al fuoco e tenendo presente appunto che le nanoparticelle sono molto più piccole rispetto alle classiche particelle si andranno a si cercherà di sfruttare appunto questi legami che vengono appunto a instaurarsi tra nanoparticelli per avere addirittura dei leganti che siano molto più resistenti sia come tenacità che come resistenza proprio al vario, diciamo, resistenze chimiche e resistenze meccaniche ho finito, grazie grazie a te